Oh ragazzi, ce l'abbiamo fatta, oggi è un pomeriggietto in Lessigna Malga, non mi ricordo di me questa Malga, bella, vale bella tipo E... come è felice E niente, pranzetto qua in Malga, molto... ma mi prendi o no? Molto tranquillo, ho mangiato... E ovviamente... tagliere enorme, abbiamo fatto un tagliere piccolo ma in verità era tipo enorme Poi dopo di quello, Nelly cosa fai, cosa vuoi? Vai! Vai! Niente Tagliere, dicevo, un tagliere enorme Poi... le... i canedagli Canedagli, tagliatelle al ragù di lepre E... e via rette Adesso siamo qua distesi da un paio d'ore Qua... guarda c'è un pochino il panorama, tranquilli a prendere il sole Anche se è novembre, quindi dovrebbe fare freddo, in verità Sì ho il paeletto, ma me lo sono appena messo Sono stato in maglietta, maniche corte fino ad adesso E... tra... mi sarà mezz'oretta scendiamo giù Anche perché tra un po' farà già buio E visto che per arrivare qua bisogna passare per il bosco Non il massimo Adesso libero la Nelly Perché è qua che si lamenta Dai lì, vieni qua Dai lì qua Vieni qua, Nelly Cos'è? Un fungo quella roba lì? Ferma, ferma E adesso andiamo Guardate com'è felice Che scodinzola Io la libererei Il problema è che qua ci sono anche tipo famiglie Quanta altra Non vorrei che creasse dei casini Un po' si mette a mordere un bambino Ah l'Anelli com'è serena Quello di fronte a noi è il Monte Baldo ragazzi E dall'altra parte c'è il lago di Garda Subito dopo Palma mia ragazzi Sabato sera Impegnativi Sono un quarto Dieci alle undici quasi E non avevo voglia di uscire stasera per una serie di ragioni Ho deciso dai sto qua Mi rilasso un po' Oggi Una giornata Carina Per il fatto che sono riuscito a inaugurare La cioccolata calda Per questo Per questo periodo Prima siamo andati al baretto Per un po' di Appunto cioccolata con la panna E ragazzi La fine del mondo Fine del mondo Questo mi ricorda che devo comprare il latte Perché io avrei qua la polverina Che ti metti lì E fai la cioccolata calda E devo iniziare a fare anche quello Ah in tutto questo Sto iniziando anche a finire le tisane Che insomma mi ero preso tempo fa Pian piano se ne stanno Insomma Ne stiamo usando tutte quante Quindi anche quello top Perché così le uso tutte Ne prendo delle altre Dei nuovi gusti Magari stavolta Solo che Appunto essendo appassionato Ne ho comprati tantissimi E Adesso devo sperare Che finire abbastanza presto Non ce la faccio più E a fianco a me c'è l'Anelli Anche lei come vedete Da sabato sera È stecchita L'Anellina Che non mi ascolta neanche È di che dorme E Tutto questo Stasera ho deciso Non esco Sto in chilling A casa Mi guardo Mi guardo un po' di video Voglio stare tranquillo Anche domani Però non ho Non ho piani Non ho piani Spero che si Che venga su una bella giornata Così magari si organizza qualcosina Ma Non lo so Non lo so Ragazzi A volte Ci sono le giornate No E questa È una di quelle Dove Non so Ti senti come Il mondo che ti rema contro Per una serie di ragioni Che non sto qua a spiegare Però Ogni volta Devi provare Ricordati perché fai le cose Perché provi a Insomma Ad andare contro Alcune scelte E anche L'integrità Di una persona Sta in questo Sinceramente Per farla molto breve Ci sono dei comportamenti Di altre persone Che io non riesco Proprio ad accettare E quindi A forza di ripeterlo Io ho deciso Basta Piuttosto mi tiro indietro io E quindi Sono uscito da un contesto Che non Mi dava Per quanto sia triste Non mi dava Ultimamente Molta felicità A quanto io Me la dava in passato E quindi adesso Uscire dall'inizio Ovviamente è doloroso Perché dai Anche Per abitudine O quant'altro È brutto Uscire da Certi contesti Ma lo fai Per un obiettivo Più grande Che è stare bene A lungo termine E visto che Appunto Era da tanto Che queste cose Non funzionavano Con certe persone Ho deciso Io Di Di prendere Una scelta E Questa scelta Implica appunto Non condividere Più il mio tempo Almeno Con le stesse condizioni Prima Basta E niente ragazzi Quindi adesso L'entusiasmo È quello che è Io sono Quanto tranquillo A casa Mi faccio le mie cose E E niente E niente Dai Quindi se non l'avete Ancora fatto Mettete mi piace Commentate Scrivetevi al canale Noi ci vediamo Nel prossimo video Domani Sapete benissimo Cosa fare Per supportarmi E arriviamo Prima o poi Prima o poi Arriveremo a 3000 Non ho dubbi Ma che bella giornata Oggi C'è un bel sole Oddio Questo basilico Oramai Morto Stecchito Niente Movalo Ragazzi Vado a fare colazione Che Vediamo un pochino Ripigliare